In questo capitolo andremo a vedere e studiare un secolo incredibilmente interessante e affascinante per quanto ci ha lasciato dal punto di vista artistico, culturale e proprio tipico del sentire di ogni uomo anche dei giorni d'oggi, nonostante siano ormai passati quasi 400 anni. Parleremo infatti del 600 e quale immagine migliore per rappresentare il 600 di quello che è stato il re simbolo di questo secolo, cioè Luigi XIV, il re sole. Prima di avventurarci nel capitolo vi invito a riflettere su queste domande. Che sono diciamo propedeutiche al capitolo, allo studio di questa parte di storia. Innanzitutto, qual è la situazione in Francia tra la fine del 500 e l'inizio del 600? Lo avevamo visto nel capitolo precedente. Quindi quali sono le dinamiche in questo paese? Quali sono le principali questioni in Europa in questo momento? Cioè di cosa si discute? Quali sono i problemi? Quali sono i topic, possiamo dire, principali che anticipano il 600, che si trovano alle porte del 600? E qual è l'equilibrio di forze tra i paesi europei? Guardate queste informazioni e, dopodiché, proseguite nella visione del video. Il 600 si apre in Francia in un modo tragico. Nel 1610 la Francia si sta riprendendo dal punto di vista economico e politico dopo mezzo secolo di guerre di religione. Ma a un certo punto c'è un brusco rallentamento a causa dell'assassinio del re Enrico IV. Il figlio Luigi XIII è appena nove anni e per esercitare il ruolo di governante la reggenza passa a Maria de' Medici. Ma Maria de' Medici è donna ed è italiana, mal vista dai nobili francesi. E proprio per questo motivo la monarchia si trova, possiamo dire, in pericolo perché affronta una grave fase di debolezza. Molti nobili vogliono cercare di sfruttare questa situazione per prendere il predominio sul re. Ma questo tentativo viene di fatto bloccato da una delle personalità più affascinanti di questo inizio secolo, Armand Jean Duplessis, duca di Richelieu e cardinale. Passato ovviamente alla storia con il nome di cardinale di Richelieu è diventato personaggio famosissimo grazie all'opera I tre moschettieri di Alexandre Dumas, diventato il cattivo del romanzo. Richelieu tiene il governo francese sostanzialmente dal 1624 al 1642 e nel corso di questi 18 anni riesce a lavorare su due punti fondamentali. Il primo di questi punti è l'assolutismo, l'assolutismo monarchico. Il cardinale di Richelieu vuole confermare, imporre e anzi rendere ancora più importante, preponderante, l'idea di assolutismo legata alla figura del re. In questo caso Richelieu non è il re ma sostanzialmente abbiamo visto Nefaleveci in Francia. E come ottenere tutto ciò? Attraverso principalmente tre manovre. Innanzitutto costringere la nobiltà feudale a obbedire al re. I nobili non possono più essere liberi di fare quello che vogliono. Ci sono delle regole che impone Richelieu e che li costringe a seguire quanto deciso dal re. Ridurre le autonomie locali al minimo e quindi nelle città e nelle campagne non c'è la libertà di legiferare o di comportarsi in modo diverso da quanto invece vuole il sovrano. E infine ridurre le libertà concesse agli ugonotti e quindi sostanzialmente ai protestanti in Francia. Questo perché appunto gli ugonotti rappresentavano sostanzialmente un pericolo. Erano insorti all'epoca per paura del potere della Chiesa Cattolica ed erano diventati una minaccia. Richelieu ovviamente li combatte e utilizzando anche l'esercito. Richelieu d'altronde è un cardinale della Chiesa quindi propenso ovviamente ad andare contro i protestanti. Il secondo punto invece riguarda la politica estera e il rafforzamento della Francia in Europa. Richelieu vuole che la Francia abbia un ruolo assolutamente di primo piano un ruolo di superpotenza diremmo noi oggi in Europa. Il cardinale era particolarmente preoccupato per gli tentativi di espansione e di predominio da parte degli Asburgo d'Austria e di Spagna. In particolare gli Asburgo d'Austria che erano imperatori di Germania e volevano guidare una sorta di Europa intorno alla fede cattolica. Richelieu non poteva però appoggiare e approvare la supremazia imperiale anzi voleva un'Europa divisa tra diversi stati nazionali e diversi fede religiose. È interessante questo perché Richelieu nonostante sia un cardinale cattolico è consapevole del fatto che non si possa tornare indietro ci deve essere il percorso fatto dalla riforma ormai è consolidato è passato un secolo pensare di poter ritornare al cattolicesimo oppure in Europa è sostanzialmente fantasia e quindi Richelieu è consapevole di questo ma pensa anche che ci debba essere un equilibrio di forze garantito da una potenza dominante che nell'ottica del cardinale è ovviamente la Francia. Per ottenere questo Richelieu sarà in guerra una guerra di trent'anni la famosa guerra dei trent'anni che sostanzialmente non porterà a nessun vincitore ma però ha una sorta di nuovo equilibrio in Europa. La guerra dei trent'anni parte come erano sostanzialmente finite le guerre fino al Cinquecento cioè per motivi religiosi. Nel 1618 l'imperatore Mattia d'Asburgo impone ai sudditi della Bohemia che sono una regione protestante l'osservanza del cattolicesimo come era stato sancito dalla dieta di Augusta del 1555. È il principe, l'imperatore che devono sostanzialmente in qualche modo mettersi d'accordo per la religione esercitata all'interno di uno stato. La popolazione reagisce però e non sottostà al volere dell'imperatore e a Praga i rappresentanti dell'imperatore vengono gettati dalla finestra del palazzo che li ospitava. È la defenestrazione di Praga che è un atto di ribellione di aperta ribellione all'imperatore tanto che Mattia d'Asburgo decide di attaccare i protestanti con il proprio esercito. Quello che inizia con un conflitto sostanzialmente interno in breve tempo si allarga a un conflitto europeo. In difesa dei bohemi infatti e per impedire che gli Asburgo possano rafforzare il loro potere in Germania intervengono principi e stati protestanti tra cui anche Olanda, Inghilterra, Svezia, Danimarca e Ungheria. A fianco dei protestanti scende anche la Francia. Ricordiamo, l'abbiamo visto poco fa, l'intento di Richelieu è quello di opporsi agli Asburgo. Questa è la scusa che cercava. E quindi in difesa della fede cattolica si schierano invece, accanto all'impero, la Spagna, il papato, la Polonia e il ducato di Savogna. La guerra appunto dura 30 anni, dal 1618 al 1648. La guerra fu combattuta soprattutto in Germania e in Italia settentrionale. Fu una guerra per l'epoca tremenda. Vennero compiuti saccheggi, razzie, distruzioni, violenze di ogni genere. Gli eserciti devastavano, depredavano, si procuravano il cibo sottraendolo alla popolazione. Portarono anche epidemie mortali di colera e di peste. E' tra l'altro collegata alla guerra dei Trent'anni, per fare un'inferenza generale, la peste che è al centro, lo vedremo l'anno prossimo, dei Promessi Sposi. E' una peste che, diciamo, portata, che deriva da dai Lanzichenecchi che dalla Germania scendono in Italia per combattere questa guerra che viene combattuta appunto anche sul suolo italiano. Perché l'Italia all'epoca è controllata dall'Italia del Nord e dalla Spagna. E quindi da uno Stato alleato della Germania. E lo scontro, quindi, avviene sul suolo italiano tra chi sostiene sostanzialmente i ripelli, cioè, diciamo, l'affermazione della religione, della propria volontà, della propria fede religiosa, e invece chi, come l'imperatore, la Spagna in primis, il papato, eccetera, sostengono invece esclusivamente la fede cattolica. Nel 1648 la guerra finisce con l'idea che nessuna delle parti avrebbe potuto imporsi sulle altre. Si giunse a un accordo che è chiamato appunto la Pace di Vesfalia, firmata appunto in questa regione tedesca. Cosa prevedeva questa pace? In base a questi accordi alla Francia venne riconosciuto il ruolo di principale potenza europea, mentre gli Asburgo di Austria e di Spagna dovettero rinunciare ai loro progetti di predominio. Si rafforzarono la Svezia e il Ducato di Prussia, la Germania divenne una regione europea più frammentata e la Pace di Vesfalia sostanzialmente stabilì l'autonomia degli stati tedeschi dall'autorità imperiale, la completa indipendenza della Svizzera e dell'Olanda. Era la prima volta che veniva riconosciuta la libertà di scelta della propria sorte da parte dei singoli popoli. È un evento per questo molto interessante e che si ripeterà decenni dopo con le varie rivoluzioni, vedremo quella inglese, poi vedremo quella francese, il popolo che insorge e che per determinarsi, per determinare i suoi diritti e le sue volontà. Ogni stato quindi viene sancito nel 1648 è libero e sovrano nel proprio territorio e ha il diritto alla propria unità e indipendenza. Si pone definitivamente fine alle guerre di religione che avevano inseguinato l'Europa per un secolo sostanzialmente e si ammette di fatto l'esistenza di tre diverse confessioni cristiane la cattolica, la luterana e la calvinista anche se i principi possono ancora scegliere la religione del proprio paese. Si stabilisce una politica di equilibrio tra gli stati in modo da impedire che uno di essi potesse imporre la propria supremazia sugli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.